E' tutto ancora più complicato con un'eventuale invasione. Ci sono delle trattative segrete per gli ostaggi? Le trattative sono sempre segrete. Anche quando Israele scambiava con Hamas erano ovviamente segrete e poi diventano palesi. Sicuramente ci sono dei canali aperti, che sono quello catarino, quello turco, ma per il momento mi pare che né Hamas ha interesse a dare indietro degli ostaggi né credo che gli ostaggi siano la priorità israeliana. Cioè Israele qui si gioca l'esistenza e quindi può mettere nel conto anche la morte degli ostaggi altrui ma anche propri.